La missione dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani. Io sono presidente dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani che è stato creato per volontà del maestro Medici nel 1959 e da allora ha sempre portato avanti la figura del maestro attraverso lo studio delle sue opere, della vita, delle lettere e di tutto il materiale conosciuto sul maestro. Il nostro compito attraverso i vari percorsi che noi proponiamo di studio, di analisi e quant'altro si sfocia in vari studi in particolare una delle funzioni principali dell'Istituto è quello di catalogare, raccogliere, studiare, analizzare le più di 35.000 lettere che il maestro ha scritto in tutti gli anni della sua esistenza ad esempio appunto il maestro si alzava alle 5 del mattino per scrivere lettere era l'unico mezzo di comunicazione la lettera e all'epoca le poste funzionavano molto bene c'erano due consegne di lettere al giorno e quindi il carteggio verdiano è veramente proficuo. L'Istituto di Studi Verdiani si avvale della direzione scientifica del professor Petrobelli e di vari collaboratori ottimi fra cui Giuseppe Martini.